Buongiorno a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Italiano in 5 minuti. Io sono Susanna e insegno l'italiano agli studenti stranieri dal 2014. Ho deciso di creare questo formato video per aiutare gli studenti principianti di Italiano a capire meglio alcune tematiche grammaticali e lessicali dell'italiano in modo da migliorare la conversazione. Studenti intermedi e avanzati, siete i benvenuti anche voi! Ripetere fa sempre bene, credetemi! In questo video vi spiego una particolarità della frase negativa italiana. In italiano esiste la doppia negazione. Cosa significa? Con l'espressione doppia negazione si intende la presenza di due elementi negativi nella stessa frase. Non c'è nessuno. Se non noi traducessimo letteralmente questa frase in inglese diventerebbe there isn't no one. In molte lingue, come appunto l'inglese, questa doppia negazione non è possibile, non è corretta. In italiano invece si usa. La doppia negazione italiana prevede però delle regole che bisogna seguire e che si basano sulla posizione degli elementi negativi. Il primo elemento negativo è NON. Questo avverbio di negazione precede un verbo per negare l'azione che svolge. Questo film non finisce più. Il secondo elemento negativo si posiziona dopo il verbo e può essere rappresentato dalle parole. Nessuno, nulla, niente, più, mai, neanche, nemmeno, neppure, mica, ha fatto, per niente. Non ha chiamato nessuno. Non sei per niente gentile. È fondamentale che capiate l'importanza della posizione. Affinché la doppia negazione possa esistere, il secondo elemento negativo deve essere messo dopo il verbo. Se volete utilizzare gli indefiniti nessuno, niente, nulla, avete un'altra scelta. Se svolgono una funzione di soggetto e perciò precedono il verbo, non richiedono l'avverbio negativo NON. Nessuno ha parlato. Nulla di tutto questo è successo. Conoscevate queste particolarità della frase negativa in italiano? Sapevate già usare correttamente la doppia negazione? Ora tocca a voi! Scrivete nei commenti degli esempi in cui è presente la doppia negazione italiana. Io spero che questo video vi sia stato utile. Grazie per averlo guardato. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube, potete farlo cliccando sul pulsante e attivando la campanella. In questo modo vi arriverà una notifica che vi avvisa di nuovi video per migliorare il vostro italiano. Io sono Susanna, insegnante di italiano per stranieri e vi aspetto nel prossimo video! Grazie a tutti!